Buonasera, è sabato, sono... no, io non so che altro dire, veramente se volessi farlo apposta non ci riuscirei, sono le 18.18, sono qui con un po' di gatti, tra poco torna Marco, questa sera mangiamo la pizza, oggi è stato il primo sabato quando ho iniziato la scuola, senza scuola. Quindi giornata di riposo, tra virgolette, perché comunque io ho verniciato la porta, se avete visto qui di ghiere. Allora, accendiamo il forno e iniziamo a preparare le pizze. Questa qui, che è appunto quella con pasta madre, cioè vedete lasciata così, è un po' poco invitante direi. Quindi adesso ci vado ad aggiungere un po' di formaggi, ci ho messo un po' di emmental, per dare una fettina, poi due fettine di scamorza affumicata e gorgonzola. Questa volta ci ho messo un po' di più, perché la volta scorsa non era un granché, diciamo, questa pizza, quindi ho abbondato un po' col condimento. In pezzo ci metterò anche un filino d'olio sopra. Pizza pronta. Allora, sono le dieci meno un quarto. Ho avviato la vostra viglia, come potrete sentire. Sto montando il video. Non so se riuscirò a finirlo, anche perché nonostante sia sabato non possiamo andare a dormire un po' più tardi, perché domattina Marco purtroppo lavora. E si deve alzare alle cinque. La pizza era meglio stasera, con tutta quella roba che ci ho messo, però non sono riuscita a finirla. Ne ho lasciate tre fette, così le mangio domani a pranzo. Video montato, come sempre, con difficoltà extra. Qualche gatto, quella o addosso o davanti allo schermo o addosso e davanti allo schermo. Comunque, vado a prendere la sabiglietta, mi preparo e poi andiamo a dormire. Cioè, capite qui com'è la situazione? Ok, io vado a dormire, ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buongiorno. È domenica, sono quasi 8. Ho dormito un sacco. Ora ci vediamo. Buongiorno, non lo faccio. Buongiorno, no, 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 no. Buongiorno. Buongiorno, seto, buongiorno, no, no, no. Allora io come vedete mi sono truccata Mi sono anche vestita, vestita solo sopra Ora mi vado a cambiare Perché ho fatto il video sugli orzetti Visto che questa cosa mi sembra funzionare bene Di fare video dei prodotti che mi mandano Separati dai vlog Mi sembra più giusto fare così Sia per voi sia per chi mi manda i prodotti Alla fine Anche se riceve meno visualizzazione di video Sono le nove e mezza A cambiarmi e sistemo la casa C'è anche brutto tempo oggi Che tristezza Non so perché mi aspettavo una bella giornata oggi Comunque oggi pulizie Sì pulizie però senza strafare Perché è domenica E vorrei poi avere un po' di tempo per montare Un paio di video L'unico neo diciamo di questa cosa È che ho più video da montare In questo modo Però vabbè E non è che è una cosa che mi pesa fare Solo che ovviamente ci vuole del tempo Ho vabbè riordinato, fatto gli eletti eccetera E spolverato Passato l'aspirapolvere Dato una passata veloce ai bagni Ora lavo per terra E poi siamo a posto E nel frattempo mi cuoce una brioche Le ultime due Ce l'abbiamo fatta Pulizie finite Sono le 11.20 Speravo di finire un po' prima Però ho iniziato tardino stamattina Ora mentre aspetto che la brioche si raffreddi un po' Vado un pochino di là da Franci E poi facciamo finalmente colazione Oddio forse è un po' tardi per fare colazione però Non so potrei tenerla per merendo Per dessert dopo la pizza Perché ieri sera abbiamo mangiato la pizza Mi ha avanzato tre pezzi di pizza Quindi potrei mangiare quello più la brioche Tra una cosa e l'altra si è fatto mezzogiorno Quindi ora mi metto a sistemare un po' di video prima E riguardo e sforzo quello per domani E poi inizierò a montare gli altri due Quanto sei bella mamma mia Mi sa che doveva montare al penny Non mi ricordo bene per quale motivo Però mi ricordo che avevo detto Marco io ne approfitto Sentiamo il penny per andare a brioche Che lì costano meno Ma guardatelo lei Mamma mia Mamma mia Quanto sei bella tu Mamma mia sei bella proprio Ciao guardatemi che ciabatti sono Queste sono quelle che aveva la portinaia Per quando andavo ad aiutarla Che poi si è offesa Perché non riuscivo mai ad andarci Quindi mi ha detto riprenditi le ciabatte Tanto non vieni mai E direi meno male Perché stamattina Qualcuno aveva vomitato dietro al letto Di Marco Questa mattina mentre pulivo Non me ne ero accorta L'ho calpestata E quindi ho messo le ciabatte a lavare E per fortuna ho queste da mettere Sono meno meno un quarto Non so se vedete È bagnato Ho dovuto rilavare quel pezzetto lì Perché dopo che li abbiamo portati giù Ha bevuto più volte Tipo almeno otto volte Ha bevuto passeggiato Sgocciolando Poi di nuovo ho bevuto Passeggiato Sgocciolando almeno otto volte Aveva fatto un macello Quindi ho dovuto rilavare quel pezzetto E siamo andati giù con i cani E l'ascensore è di nuovo rotto Ovviamente come dicevo Questa ascensore è dei problemi Che ravi Cioè per me non è un problema Sinceramente Fare treppini a piedi L'unica cosa è che Quando portiamo giù i cani La Lola la devo tenere in braccio Perché non sa né salire Né scendere le scale Quindi la devo tenere in braccio Però vabbè La Lola è piccolina Leggera Sarebbe stato un problema Se fosse Oppo A non saper salire Scendere le scale Dopo comunque dovremmo andare Perlomeno a prendere Glocantini per i cani Perché sono finiti Io ho mangiato Alla fine ho mangiato solo la brioche Perché la pizza L'ho offerta a Marco E ho mangiato la brioche Perché in effetti Ho ancora un po' fame Magari dopo mi faccio una focaccina Comunque io adesso sto esportando il video per domani Poi lo metto a caricare Dopodiché vado un pochino di là da Franci Poi torno di qua Faccio la focaccina E mi dedico agli altri video Pronti per guardare One Piece Aggiornamento Situation Sono le 4 e mezza Primo video Caricato Sistemato Adesso sto editando un altro video Quasi finito E poi Ne ho un altro Da fare Però sono brevi Un po' di video extra Quindi Faccio abbastanza Presto a mancarli Sono Le Accenditi Quasi le 6 Ho appena finito Con tutti i video Adesso ci sarebbe la uscita Per prendere i croccantini Al cane Passa tutta la domenica A montare video Praticamente Però Fisicamente Mi sono riposata Ok Croccantini Che l'ho preso Sto già mangiando Infatti Aveva fame Povero Non che sia rimasto senza Per tanto tempo Ma Stamattina c'erano A questo punto Vado a struccarmi A fare la doccia E poi Pensiamo alla cena E metto anche il peggio Una doccia fatta Peggiano messo Ora vediamo di cucinare qualcosa Non so che video sia venuto oggi Perché veramente Questa tutto il pomeriggio A montare video Quindi Io comunque Vi ringrazio tantissimo Di avermi fatto compagnia E ci vediamo domani Mua Mua